игрotipatica ragazzi stiamo per cadere dalla padella alla prace amanti della passera approfittate della nostra offerta prendi due paghi una e un penny si se prendete una passera a prezzo normale avrete a disposizione un'altra bella passera dello stesso tipo e come più vi piace solo per un penny vi rendete conto? una bella passera per un penny se trovate da qualche parte una passera ammino potete lì Ehi, guarda che passerina sta arrivando Un nuovo tipo Una passerina in fasce Ehi, dove vai tu sei di fretta, furbone? Sposta, tianetto Se vedi che vado di fretta, perché mi rompi i coglioni? Entriamo, forza! Allora, che fa? Ti alzi o ti fa male la pancia? Beh, questi sono i locali che mi piacciono Bucaraccia se enoja da... Bucaraccia se enoja da... Puoi diventare un cliente fisso! Un whisky? Tu non puoi bere qui Spiegatemi E' un bar privato Ti hanno invitato per caso? Vuoi dirmi che io non sono all'altezza di bere in questo cazzo di locale? Questo bar è riservato solo a motociclisti e a camionisti Perciò... Vattene! Ande, pendeco! Toglimi la mano di dosso, amico Conterò fino a tre No, conterò io fino a tre Uno Due Aspettate un momento, non c'è motivo di litigare C'è stato un piccolo malinteso tra di voi Dite che questo bar è riservato a motociclisti e camionisti, no? Beh, io sono un camionista Se dai un'occhiata di fuori nel vostro parcheggio Vedrai un grande camper dash nuovo di zecca Beh, è mio Per guidarlo si deve avere una patente C Quella dei camionisti Questo bar è per camionisti? Io sono camionista E questi sono i miei amici Allora, benvenuti al TT Twister Una bottiglia di whisky e cinque bicchieri Arrivano i non appi Buscando una fiesta Avete anche da mangiare? Siamo il miglior ristorante in Messi Allora figuriamoci gli altri Noi andiamo a sederci Tu spedisci una cameriera Così ordiniamo una schifezza, ok? Ok